Raffiche fino a 109 km orari, Lanciano spazzata dal vento di Libeccio, un centinaio le telefonate giunti all'ufficio tecnico comunale dove è stato attivato il centro operativo COC della protezione civile. Tanti i danni anche se non di grande entità segnalati anche ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Caduta di tegoli in varie zone della città, una veranda scoperchiata in via Cesare Battisti con lastre di copertura finite su auto in sosta. Anche nella sede Asli in via Silvio Spaventa è stata danneggiata un'auto, un grosso ramo di albero è caduto sulla fiancata sinistra. Qui è intervenuto l'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria per la rimozione e la messa in sicurezza dell'area. In zona Viali le raffiche impetuose hanno falciato la cima dell'albero in Largo Martiri delle Foibe, in altre zone della città segnalata la caduta di alberi di proprietà privata. A Piazzale Quonzo il vento ha piegato fino a spezzarli i montanti in acciaio che reggevano uno dei grandi tabelloni pubblicitari 6 metri per 3. La furia del vento addivaltò anche i cestini in ferro dei rifiuti lungo Corso Trento e Trieste che erano bullonati a terra. Dopo il sensibile aumento delle temperature registrato in mattinata, nel pomeriggio il brusco calo assieme a piagge rovesci su tutta la città.